Oggi su Fanner News, calcio a 5 e calcio a 8. Pisana e Santa Marinella si giocano secondo e terzo posto. L'infortunio al ginocchio per Bomber, Danversa e stagione finita. Ora l'Eurobet deve rimediare. Il regolamento play-off della Virgin Cup. A chiudere gli highlights dall'ultima giornata di Serie A della Lega Calcio 8 e le fasi finali della Lega Calcio a 5.